Il compito di mandato era comunque di non strafare, comunque di giocare come sapevo e niente, meno male che è uscito il gol, sono stato anche un po' fortunato, però tutto sommato è andato tutto bene, dai! Il Diego è un bene dell'anima comunque, è come un fratello per me, comunque abbiamo fatto una bella annata sapete che comunque siamo usciti dai semifinali, siamo usciti malamente con la cosa di Toro Viola e devo fare soltanto tanti ringraziamenti a Diego, tanti ringraziamenti e anche al mister Marco della Toro Viola, Marco Placidi, tanti ringraziamenti a tutti e due Sono tanti i giocatori bravi, Pagliarello è bravo, il Gaucio è bravo, due giocatori mi hanno impressionato tanto e poi il resto tutti i giocatori bravi, assolutamente, farebbero tutti bene con quella squadra come noi della Toro Viola